Benvenuti in Italia, nella puntata di oggi parleremo di criminalità. Col primo servizio siamo andati a Napoli, nei quartieri spagnoli, una zona che gode di una fama ben poco lusinghiera e nella quale ci siamo addentrati grazie a una guida molto speciale. La seconda storia ci racconta un'ora molto particolare, l'ora di libertà di Simone, un ragazzo agli arresti domiciliari che ci ha concessi i suoi 60 minuti a cielo aperto. L'ultima storia ci porta ad Arona, sul Lago Maggiore. Non vi parleremo però delle bellezze del paesaggio, ma dell'incredibile e burrascosa vicenda di un uomo soprannominato il solista del Mitra. Tre storie dunque per parlare di criminalità in Italia. A Napoli vi basterà semplicemente chiamarli quartieri e tutti capiranno subito cosa state alludendo. Se però non siete dei napoletani doc e magari state visitando la città, qualsiasi guida turistica parlandovi dei quartieri spagnoli vi metterà in guardia. Essere prudenti è la prima cosa da tenere a mente se si decide di farci un salto. I quartieri spagnoli, come vuole un'etichetta appiccicata non proprio senza motivo, sono i vicoli della droga, il quartiere della Camorra, il ritrovo della criminalità. Eleonora è partita la volta di Napoli per capire in compagnia di chi nel quartiere ci vive e per il quartiere lavora se la situazione è cambiata o se i quartieri spagnoli sono ancora un feudo della criminalità in Italia. Ciao, piacere Eleonora, tu sei Mimmo. Allora, noi siamo oggi qui con te perché so che tu sei operatore nell'Associazione dei quartieri spagnoli. Noi stiamo facendo una puntata su criminalità ai giovani. Secondo te siamo nel posto giusto? Al posto giusto, al momento giusto. Perché purtroppo sono famosi questi quartieri? Perché diciamo che si concentra la classe sociale bassa di Napoli, sia dalla borghesia, classe povera, sia povera di valori e quindi che sfocia poi nella violenza e nella microcriminalità. Però io che ci vivo ti dico che è una delle zone più sicure di Napoli perché chi deve delinquere va a delinquere nei posti dove c'è ricchezza, non dove c'è già povertà. È una cosa un po' particolare che proprio al centro della città ci sia una zona appunto molto povera, abbastanza degradata. Come si spiega? Perché i vari tentativi di progetti di riqualificazione della zona dei quartieri spagnoli sono andati falliti perché ci sono vari impedimenti, sia delle famiglie ad esempio che vivono nei bassi che non vogliono, c'era questo progetto di riqualificare i bassi come negozi. Cosa sono i bassi esattamente? Sono queste case a piano terra, insomma dei terrani, molto piccoli. Nessuno ha abbandonato questi bassi, anche se immagino che viverci non sia proprio piacevole. No, non è piacevole però comunque ci vivono anche più famiglie dentro, anche se sono molto piccoli. Però chi ne ha bisogno, come si dice a Napoli, si arrangia. Che relazione c'è tra criminalità e disoccupazione? Iniziano proprio con i nostri ragazzi che cercano anche un lavoro tra virgolette onesto e il più delle volte finiscono col fare i garzoni del bar o del salumiere. Poi dopo vengono contattati da chi non devono essere contattati, che invece dà giornalemente molto di più di quello che loro possono guadagnare una settimana. Per dirti in media un garzone del bar può prendere dai 50 ai 70 euro per l'intera settimana, invece c'è chi per dare una pallina di cocaina gli dà 50-100 euro al giorno. E film o comunque una certa informazione su che cos'è la camorra realmente e anche i danni che poi può portare alla vita delle persone, immagino quindi la galera eccetera, passano questi messaggi? Diciamo che lo sanno e lo accettano, però sono stretti da una morsa dell'adeguamento al bisogno. E arriviamo allora all'attività della tua associazione, raccontami un po' da quant'è che esiste l'associazione Quartieri Spagnoli? Dall'86 nasce come uno sportello di volontariato molto mirato all'accompagnamento delle prostitute. Poi dopo le mamme dei quartieri hanno richiesto dei laboratori di dopo scuola, soprattutto per i ragazzi che non andavano bene a scuola. E poi è stato istituzionalizzato con dei laboratori di educativa territoriale, sono tutti laboratori di recupero per minori a rischio, quindi dal dopo scuola, calcetto, teatro, informatica, arti manuali. Hanno intenzione di educare i ragazzi a valori che ormai sono persi. Quali sono le difficoltà principali che affrontate in questa attività educativa? Le difficoltà stanno nelle forze che l'istituzione ci dà, sia come numero di educatori, sia come finanziamenti, sia come precarietà del lavoro, perché spesse volte è stato stoppato il progetto e quindi i ragazzi sono stati abbandonati. Noi che dovremmo dare sicurezza ai ragazzi precari, finiamo con essere precari noi, facendo un'intervista sui laboratori che facciamo noi. E' Biaggio, una delle nostre perle, ce lo siamo cresciuti da parecchi anni, è molto bravo, fa teatro. Ti piacerebbe rimanere qui a Napoli nei quartieri oppure andare, non so, all'estero, a Roma? No, a Roma. Il mio sogno è per fare l'attore e per dimostrare che a Napoli ci sono anche ragazzi che si salvano, non soltanto ragazzi che gli piacciono, cioè gli piacciono fare le guerre, se no ma qua. E per questo sono convinto, voglio diventare qualcuno proprio per dimostrare che Napoli ha anche dei lati positivi. Da quant'età che vai all'associazione di Milano? Da piccolo, molto piccolo. Avevo 15 anni, almeno 7 anni. Mi piacciono a giocare a calcio, a teatro, a pittura. E all'inizio era veramente così scalmanato. Sì, bisognerebbe vedere il fratello più piccolo come adesso, uguale a lui quando aveva 8 anni. Però lui veramente ha fatto un grande percorso di crescita. 8 anni di teatro ho fatto. Forse è indirizzato una strada migliore di molti altri ragazzi. Almeno come ideale, come sogno. Lascia che non ci riesci, però almeno c'è questo sogno. Qui quando entrano gli agenti, la polizia, i carabinieri fanno poi comunque repressione o vengono dileggiati e scacciati? Com'è la relazione? Fanno repressione momentanea. Ho detto pure prima sui pesci piccoli. Purtroppo sono sempre i ragazzi che ci vanno di mezzo perché sono quelli più visibili, che spacciano. Ma i pezzi grandi sono ben protetti. Allora, questa è un'altra piazzetta storica dell'Associazione Trinità degli Spagnoli. Perché lì avevamo un parco sociale, lo chiamavamo noi. Era una grande struttura dove facevamo parecchie attività. C'era una palestra, tante aule di fare gnameria. Però purtroppo è stata chiusa appunto per i pochi fondi. Allora, questo è un DVD che abbiamo realizzato con i ragazzi l'anno scorso sulla cittadinanza attiva. In questo DVD c'è una poesia che avevo scritto dedicata ai ragazzi per far capire perché alcuni ragazzi sono così. E poi io nelle quartiere sono cattivi giorni e sere, ma sono buoni come panno e ci restano una mano. Cioè di base non sono i napoletani, ma tutti i ragazzi hanno il cuore d'oro, sono buoni. Ma se mancano questi servizi, l'asilo, la scuola, il campo di calcetto, un progetto adeguato, anche io diventerei cattivo giorni e sere, cioè mattina e sera. Allora, questa è la sede operativa dell'associazione dove svolgiamo questo progetto. Raccontaci qui cosa sta succedendo. Allora, loro sono i vari operatori del progetto e il martedì facciamo un recupero scolastico per un micro gruppo di elementari. Voi avete quanti iscritti? Un centinaio di iscritti. Ne prendete 100, ma le richieste sarebbero difficili. Sì, abbiamo una lista d'attesa di altri 40 persone, però purtroppo non sai che possiamo prendere. Ditemi i vostri nomi. Bruno. Michele. Fate gli sketch insieme. Sì, c'è anche un altro componente. E li scrivete voi gli sketch? Sì, un po' tutti e tre. Maggiormente io e poi viene pure lui. Oggi abbiamo incontrato tre ragazzi che non ci aspettavamo di conoscere nei quartieri spagnoli. Come si fa a farli crescere così? Sì. Vi dico che sono di base tutti così. Se uno si offre a loro con il cuore e con passione e con un pizzico anche di speranza, loro ti danno il doppio. Se io ti do un input violento, loro ti danno il doppio della violenza. Se io ti do il cuore, loro ti danno due cuori. Grazie. Un bacio a Bonsai TV. Concludiamo questo viaggio consegnandovi un po' di numeri sui quartieri spagnoli. Numeri naturalmente estratti sulla ruota di Napoli. Il 65% dei giovani sotto i 25 anni non ha un lavoro nei quartieri. Il numero dei detenuti è 5 volte superiore alla media in Italia. I reati commessi da minori vanno moltiplicati per 10 rispetto a quelli denunciati sul livello nazionale. Inoltre il 15% degli adolescenti abbandona la scuola. Dalle periferie degradate agli arresti domiciliari a volte il passo può essere molto breve. La seconda storia ci porta in un quartiere problematico di Milano, quello di Corvetto. Il protagonista è Simone, un ragazzo dei Milano Criminal Clan, gruppo hip hop che abbiamo conosciuto già parlando di sottoculture. Andrea è andato a incontrarlo durante la sua ora di libertà. Qua sei nato? Tavamo promesso che sarebbe durato tutta la vita e invece sei distrutta quando? Due anni fa. Ma tu già non abitavi più qui? No, abitavo qua con la ragazza. Ah, sì. E quindi sei stato qua fino a due anni fa, poi la casa è cominciata a cadere. Ci è andato subito il cambio di urgenza. E quindi da qua abbiamo spostato? Qua ai Monpiani. Perché ho aumentato l'affitto, ho aumentato tutto e fanno più schifo di questo. Sì. Quindi non sei contentissimo? No, per niente. Andai a fare un altro danno per trovare una casa. Sì. Perché tu per trovare la prima casa hai fatto... Sì, per pagare l'affitto di qua. È così? 8000 euro che volevano subito in battuta apposta di un po' alla volta. E mi è dovuto fare un danno che non ne valeva la pena però... Il danno è il motivo per cui... Per cui mi sono trovato i domiciliari. Sì. E cosa hai fatto? Una rapina in banca. Una rapina in banca. A quanti anni? È stato... 27 anni. Ma tu da solo l'hai fatto? No, no. Ho contattato delle persone che non conoscevo nemmeno. Ci ho chiesto un aiuto, loro mi hanno proposto questa rapina. Che è andata a ma... Cioè i soldi sono stati presi però... Non da te. Non da me. Noi abbiamo avuto un incidente in macchina. Io mi sono svegliato in ospedale perché avevamo avuto una botta con un'altra macchina. Mentre scappavate? Un impatto abbastanza veloce, 150 all'ora. E mi sono sviato in ospedale. Ero un po' messo male. Testa aperta. Sei frattuto la spina dorsale e due al collo. Mi ricordavo praticamente niente. Dopo un paio di giorni ho messo fuoco tutto. Era quello che mi diceva la polizia quando venivano a interrogarmi. I fogli dall'avvocato. Mi sono ricordato un po' di cose. Fino al trasferimento. Dov'è che ti hanno portato? A Le Vallette. Il carcere di Torino. Il carcere più brutto d'Italia. E da Torino poi ti hanno trasferito? No, no. Tutto a Torino. Fino a marzo quando con un aiuto degli amici, la mia famiglia, il mio cognato, siamo riusciti a rimborsare alla banca, a pagare tutti i danni ai clienti. Mi hanno mandato a casa i domiciliari. Quanto eravate riusciti a incassare dalla rapina? Non lo sai. Saranno stati più o meno 2-3 mila euro. Più un cliente che ha dichiarato che io gli ho portato gli 7 mila euro. E non era vero. Da solo aveva più di tutti i stagi che c'erano in bar. Ci hanno rapinato loro a noi. E più o meno abbiamo dovuto dare i 15 mila euro tra i soldi della banca, i danni e tutto il resto. Ma gli altri li hanno beccati? No. Quindi tu hai dovuto ridare? A me mi hanno abbandonato nella strada. Tipo un cane. Pensavano che stavano morendo ma mi hanno lasciato sdraiata a terra. Stanno dei fogli. Quelli li mi hanno tirato fuori. Io sono volato fuori dalla macchina. E mi hanno lasciato lì e sono scappati. Ma tu della rapina ti ricordi qualcosa? Mi ricordo l'entrata. L'entrata io che tenevo una ragazza e dicevo di non preoccuparsi. Perché piangeva e stava male. Dicevo non ti preoccupare che nessuno ti tocca. Non ti preoccupare. Quelli che hanno preso i soldi. Il tempo che siamo usciti. Ci sono robe messe a fuoco così. Non è che mi ricordo più di tanto. Ma eravate armati o no? Con un taglierino. E da lì ti sei trovato in una pozza. E da lì ti sei trovato in una pozza. Ho rischiato pure la vita. Ho rischiato. Per che cosa? Per pagare l'affitto all'Aler. E quanto sei andato? Mi è andato sei anni. No, primo grado 12 anni. Perché dicevano che io ho usato l'odiosità verso i clienti. E che non era vero. Perché io la prima cosa che ho fatto. Ho visto sta ragazza piangere. Sono andato subito la di stare tranquillo. Che nessuno l'avrebbe toccato. Poi mi hanno levato metà della pena. Perché io ho ammesso subito le mie colpe. Mi sono preso le responsabilità. Ho mandato sei anni. E ho confermato cinque. Adesso sono fatti tre già. E noi altri tre domiciliari? Sì, ma il fatto è che adesso non vale la pena che mi fanno stare a casa i domiciliari. C'ho la ragazza incinta. Io devo andare a lavorare. I domiciliari come funzionano? Devi stare in casa tutto il giorno. Non puoi avere contatti con nessuno. Non ti può affacciare alla finestra. Non puoi parlare al telefono. Non puoi usare il computer. Che sono tutte cose che io non faccio. Perché non vale la pena. Mi fai stare in casa. Ho pagato il mio errore. Ho messo le colpe e tutto. Non vale la pena. Quanti giorni puoi uscire la settimana? Adesso ho avuto un permesso di uscire tutti i giorni. Dalle 10 alle 11 di mattino. Nella tua ora di libertà quando esci cosa fai? Vado a bere il cappuccino qua al bar. Porto il cane. Vado a suonare a lui. E poi me ne torno su in casa. Tu quindi hai possibilità di lavoro? Devi aspettare. Ho fatto richieste. Non è facile adesso che mi prendano con questa condanna che ho avuto. Non si fida più di nessuno. Loro vogliono sapere se hai precedenti. Magari dici sì, ho avuto qualcosina da piccolo. Però adesso ho avuto un'altra condanna abbastanza grossa. Che cosa hai fatto? Una rapina in manca. No, guarda. Non vogliamo problemi. Non ci assumiamo le responsabilità di farti uscire. Perché tu avevi i precedenti? Sì, da piccolo. Ma erano cazzatini furtare le di motorini. C'è cose che succedevano a 15-16 anni. Dovevo combinare sempre qualcosa per andare avanti. E bollette era sempre il primo pensiero che c'era. In un modo o nell'altro riuscivo a pagare. Però sempre facendo sempre qualche cosa di losco. Io con i furti... Diciamo che mi divertivo con i motorini. Cioè, mi piaceva la moto a me andare in giro a fare il pazzo. Però c'è quando uno mi diceva andiamo a rubare un motorino e ci andavo. Non per il furno. Perché mi divertivo. Sì, vabbè, diciamo che lo facevo anche per i soldi. Perché facevi il motorino, ti pigliavi 300 mila lire. Poi magari una giornata ne facevi 3 o 4. Cioè, andavi in giro tutto vestito firmato bene. Le ragazze attorno ti vedevano che avevi soldi. Fino a che poi ci hanno beccato. Abbiamo pagato tutte queste condanne. Io mi sono fatto questi due anni. Lui mi ha fatto i suoi. Abbiamo deciso di smetterla. Perché non vale più la pena ormai. Se tu trovassi un lavoro potresti uscire di casa? Sì. Con un lavoro... Una richiesta... Un contratto di lavoro io posso uscire anche subito. Ok, quindi c'è nella tua ora di libertà ti devi cercare il lavoro. Sì. Non puoi farlo neanche da casa perché non hai internet? No, da casa ne ho fatte tantissime di richieste. Nessuno... Via telefono? Sì. Il telefono lo puoi usare e non puoi usare internet? Non potrei usarlo, però lo uso lo stesso. Ah, non potresti usare neanche il telefono? Però... Però se devi cercare lavoro... Io ho fatto... ho chiesto dall'avvocato. Devo trovare lavoro e cerchati il lavoro. Se non mi fai uscire a meno una giornata. Io in una giornata magari giro 3 o 4 cooperative. Lui ha detto, guarda, non puoi uscire. Allora io uso il telefono. In un modo o nell'altro uno si deve arrangiare. Poi è unico stretto veramente ad andare a rubare. Se la storia di Simone ci consegna un finale thrilling con qualche incertezza sul suo futuro, l'ultimo servizio segue una direzione diametralmente opposta. Andrea è andato ad Arona. Ad aspettarlo c'era Luciano Lutring. Se il nome bizzarro non vi dice nulla, i soprannomi che nel tempo si è meritato sicuramente vi diranno qualcosa di più. Il solista del mitra, perché con un mitra nascosto in una custodia di violino ha compiuto i suoi colpi. L'uomo dei tre minuti, perché in tre minuti chiudeva tutte le sue rapine. E si potrebbe continuare. Luciano Lutring, nemico pubblico numero uno negli schedari delle polizie di mezzo Europa, ha collezionato 300 rapine e messo da parte 30 miliardi di lire. In curriculum, oltre a mille donne, la ghigliottina è evitata quasi per un pelo e 12 anni di carcere, molti dei quali passati nel braccio della morte tra Francia e Italia. Ciao Giorgio! il solista del mitra. Ciao caro! Prego, beviamo qualcosa. Se volete accomodarvi. Ti chiamano il solista del mitra, giusto? Sì. Perché? Perché nella custodia di violino, che io studiavo, mio padre di origine ungherese desiderava che io devenissi un violinista zicano. nella custodia di violino, ho inserito un bel giorno un mitra e ho cominciato la mia vita delinquentistica in margine della società. Adesso non c'è più il mitra però. No, non c'è più il mitra, vedi. Però questa custodia è l'originale, perché il mitra mi fu sequestrato dalla polizia. Allora, raccontaci un po' la tua vita da giovane. Da giovane io sono nato nel 1937, sono un figlio della guerra, del dopoguerra. Io ho trovato da un vecchio rigattiere una pistola una Mrs. Wesson e andavo a ballare la sera, diciottene, diciannove anni, con sta pistola infilata nei pantaloni. Alle ragazzine, sai, di balera, di quei tempi, invece di fargli sentire il sesso, sai, qualcosa di violento, qualcosa di bello, li facevo sentire all'angolare la pistola, facendo sì che io fossi un gangster, un alcapone, un bandito. Un giorno mia zia Vittoria mi ha mandato a pagare la bolletta della luce, entro in questo ufficio postale, l'impiegato era lì a manovrare una vecchia Olivetti 55. Io, stanco dall'attesa, ho picchiato una manata sul banco e ci ho detto, allora ti spiccio o no? E spostando la giacca per prendere la bolletta della luce, questo qui, tra visto la pistola, sì, 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 ha cominciato a darmi pacchi di soldi. Prenda, prenda. Io, non capendo cosa lui volesse riferire, ci ho detto, prenda che cosa, dai, muovete. E si gira ancora, me ne ha date ancora un pacchetto, due pacchetti, eravamo sotto le feste natalizie, io pensavo che fosse un cadeau, un regalo. Ho detto, va bene, ho preso tutto, sono uscito. Quando io ho raccontato questa storia ai miei amici, mi hanno detto, se ti hanno dato quasi un milione e ottocento mille lire a te, quasi all'epoca erano bei soldini, che sei un pirla, moralmente, se la prossima volta andiamo in quattro, ce ne danno otto. Siamo andati al mare a Cesenatico per sparare questi soldi, è lì che ho conosciuto Ivonne. Ivonne è la donna che poi ho rubato le valigie, ho visto che era una bellissima donna, che tra l'altro proprio in questi giorni è uscito l'articolo. Cosa è successo? Che io, restituendo il maltolto, mi sono innamorato di lei, lei si è innamorata di me, e siamo divenuti Bonnie Clay. Poi la stessa notte di Natale dell'anno seguente, eravamo lì in piazza Duomo, a Braccetto passiamoli in galleria, c'era un negozio di pellicceria con un nermellino bianco, mia moglie che era manchene, Ivonne che era bellissima, fa che bella, che sogno, che meraviglia quella pelliccia e nermellino. Io cosa potevo dirgli? Da innamorato, da povero lupo innamorato, ci ho detto prendi il taxi e vai a casa. Tu che fai? Vedo se trovo il padrone. Ho infranto la vetrina, ho portato via anche il manichino e sono andato a casa e gli ho regalato questa pelliccia. Quanta rapina hai fatto? Dopo di lì, sai, si entra nel giro, perché dopo non ci si accorge più, quasi come una droga. Certe volte, se non sentivo il rumore dei vetri infranti di notte, se non avevo l'emozione e la libidi di fare la rapina in banca, io non riuscivo a dormire. Avevo 22-23 anni, sono stato sette anni latitante ricercato da tutte le polizie d'Europa. Ho compiuto quasi oltre 300 rapine, sono stato arrestato, ferito a morte, condannato a 22 anni di lavori forzati, ho rischiato la ghigliottina perché all'epoca davano delle condanne esemplari. Andiamo a farci due passi, così intanto ci racconti i tuoi periodi. Volentieri. Da quanto dipingi? Sono la bellezza quasi di 48 anni, 47 anni, perché prima di essere in galera io sono stato un grande falsario, poi dopo in galera mi sono messo a dipingere, i primi quadri li ho fatti su col dentifricchio, tintura d'olio, mercuro chrome, sei zafferano. In galera questo? In galera, sì, mi sono dato da fare perché sai, avendo perso la mia guerra ho cominciato giustamente una nuova vita, sai. Tu sei nato a Milano? Milano, sono milanese, ben inteso. Tu hai cominciato a dipingere seriamente in carcere? In carcere, quando sono stato arrestato il primo settembre del 1965, siccome non potevo uscire attraverso la fuga mi sono messo a evadere con l'immaginazione. Molti adolescenti hanno un po' il mito del gangster, ma tu cosa raccomandavi? Ma io sconsiglio il mito del gangster, sai, è un'immagine che noi, che io sono stato un sognatore di Al Capone, di Dillinger, di quei banditi dell'epoca americana, sono stato un grande sognatore, però oggi come oggi i gangster non ce ne sono più. Io penso forse di essere l'ultimo bandito romantico. Quel campanile là, nell'ombra, abito io. Quando uno vede queste cose come può aver voglia di andare a rapinare in banca? Nel segno di Luthring si chiude la puntata sulla criminalità. Le tre storie di oggi ci hanno mostrato, seppur con angolazioni differenti, tre fotografie alla periferia della legalità. Resta da chiedersi quale sia la percezione del fenomeno criminale in Italia. Secondo un'indagine la sindrome dell'insicurezza colpisce l'88% della popolazione e 9 italiani su 10 credono che la criminalità sia aumentata, anche se i dati sembrerebbero dire il contrario. Il problema in questo caso è probabilmente legato alla percezione del fenomeno. E così, mai come oggi, i dati Eurispes ci dicono che si sta formando un vero e proprio arsenale bellico privato. I dati del Viminale mettono in cima la lista delle città più armate in Italia, Milano e Torino, seguite da Roma e provincia con circa 2 milioni di armi regolarmente detenute. Pare proprio che si vada verso un popolo di sceriffi con tutto il rischio che questo comporta. Per oggi abbiamo concluso. Nella prossima puntata parleremo di sesso. Tre storie per cercare di capire quale sia il modo giusto di viverlo in Italia. Il sesso vivo di sentimenti è un'altra cosa, è l'erotismo. Ci siete pensati in un sexy shop? No, in realtà. Manette. Se vuoi fare un'attrice porno almeno fintami un orgasmo. Si fa sesso per lavoro e col partner. Sono cose differenti. Cos'è? Ciao.